Si accende la Pride Week, la settimana ricca di eventi in attesa del Toscana Pride 2017, in programma per il prossimo 27 maggio. Arezzo dunque si prepara così ad accogliere la grande manifestazione. Tanti appuntamenti con spettacoli teatrali, incontri e mostri per parlare di diritti civili ed umani. E a Cortona, al teatro Signorelli, lo si è fatto con due ospiti di eccezione, Vladimir Luxuria e Fabio Canino, che hanno dialogato sul tema Il film della mia vita. Noi crediamo fortemente nei diritti. Il film è The Danish Girl, il format è questo, il film della mia vita. Canino intervista Vladimir Luxuria su quello che è il film della sua vita. E questo è un film che ha rappresentato in qualche modo un passaggio anche culturale su quello che è il tema dei diritti, il tema dell'amore, che poi l'amore non ha nessun tipo di confine. Ho vissuto nella mia vita un cambiamento, un cambiamento secondo me storico, cioè ricordo gli anni della mia adolescenza in cui di questi argomenti non se ne poteva assolutamente parlare, era un assoluto tabù, fino a oggi in cui nonostante comunque bisogna ancora arrivare a una piena uguaglianza, però oggi se ne parla, in cui si organizzano dibattiti pubblici in luoghi istituzionali attraverso la proiezione di un film che è stato anche un successo. Quindi diciamo che non è più quell'argomento tabù. Si dice che qualcosa stia cambiando, che il vento stia cambiando, è un vento molto leggero, come è giusto che sia, perché è un vento rilassante, come quello che arriva al tramonto d'estate. I venti troppo violenti non mi sono mai piaciuti. I venti così calmi mi piacciono perché portano dei cambiamenti e facciamo in modo che tutti possano capire, metabolizzare e digerire, in alcuni casi, dei cambiamenti che sono assolutamente necessari in una società moderna, in un paese che è parte dell'Europa, che è il futuro.